Il riequilibrio fra paesi sviluppati e in via di sviluppo è importante anche per questo tipo di relazioni. Chiaramente se si crea ricchezza e capacità di vivere in maniera decente, è chiaro che il problema delle migrazioni può essere attenuato o addirittura investito, come diceva. È importante che in questo contesto si lavori sempre con una... Non diciamo che bisogna riscrivere le regole della cooperazione, bisogna abbandonare l'approccio predatorio nei confronti dei paesi in via di sviluppo e riuscire anche a costruire una industria verde in quei paesi. Quindi anche per quanto riguarda la catena di offerta per la transizione energetica sarebbe importante che si riduca la dipendenza da una sola fonte, fondamentalmente in questo momento è la Cina, ma si riesca a decentralizzare in modo che ci sia più un mercato e questo creerebbe anche maggiori opportunità di sviluppo per i paesi sud-est asiatico, Africa e quindi tutto questo si potrebbe tradurre in un ribilanciamento e un maggiore equilibrio e una minore distanza tra paesi ricchi e paesi pochi. I giornalisti sono sempre appassionati a queste grosse parole, Marshall Plan per l'Africa o qualunque cosa sia, però questa è la verità in qualche modo, è questa, nel senso che come l'Europa grazie al piano Marshall infrastrutture ha ricostruito la propria economia, l'Africa avrebbe bisogno di un intervento importante, noi diciamo del sistema multilaterale bancario, per costruire le infrastrutture di cui hanno bisogno. L'Africa è una powerhouse dell'idrogeno verde, ma c'ha pochissimi porti che possono consentire lo smercio dell'idrogeno sotto forma di annonia, anche il mercato regionale non può essere alimentato, quindi lì occorre costruire le strutture di supporto, tutte logistica, quindi fisica, la parte legale e politica in modo che i capitali riescono ad arrivare in condizioni di minore rischio e poi anche la capacità istituzionale e le professioni, perché poi le università erano organizzate per dare le profissionalità per il vecchio sistema, non per il nuovo. Quindi questo è da essere anche considerato in tempi rapidi, perché il tempo ci pone a condurre uno sforzo enorme che richiede tutto ciò avvenire in tempi molto rapidi.